Sicuramente la cocaina è una droga il cui consumo è in espansione, nel mondo, in Europa, ma anche in Italia. Quindi c'è grande domanda, ma c'è anche grande produzione. In Europa essenzialmente la cocaina arriva nei grandi porti del nord e anche in Italia, Gioia Tauro in particolare. Nel 2021 a Gioia Tauro sono state sequestrate, praticamente sul totale nazionale il 68% è stato sequestrato nel porto di Gioia Tauro. Quindi parliamo di quantitativi, diciamo, ingenti. Questo porto è diventato anche un luogo di passaggio per carichi di superfacenti, insomma, destinati in territorio balcane. Il conto finale dei sequestri di cocaina nel porto di Gioia Tauro si fa in tonnellate. 13 nel 2021, previsione in aumento per quest'anno. I arrivi, i transiti di coca nel porto calabrese vanno avanti da anni e non si interrompe nemmeno la catena di complicità che li rende possibili. Lo sottolinea il generale Antonino Maggiore, al vertice della direzione centrale dei servizi antidroga. Questo tipo di traffico richiede necessariamente la collaborazione di qualche operatore. È una collusione interna di operatori portuali che si prestino, insomma, a farsi corrompere e quindi a far uscire poi la droga, diciamo, dagli spazi portuali. È un sistema che presuppone una corruzione sia nel porto di partenza e così come nel porto di arrivo, diciamo, l'asportazione del container comporta anche in questo caso la rottura del sigillo, la sostituzione con un altro. Con la coca si guadagna un mare di denaro. Logico che le organizzazioni dei narcotrafficanti si alleno. Sicuramente l'andrangheta conserva un ruolo importantissimo, uno dei principali player a livello mondiale sul traffico di cocaina, ma anche le organizzazioni balcaniche stanno prendendo piede. Il tasso di redditività, diciamo, dei traffici di droga è il più elevato in assoluto. È più facile trovare un accordo. Diciamo che il traffico di droga è un esempio di crimine globalizzato. Per forza di cose è necessario che le organizzazioni criminali, diciamo, quelle che mirano a distribuire la droga nei paesi di maggior consumo e quelle radicate nei paesi, diciamo, di coltivazione delle piante e poi della produzione delle droghe, vengano a patti tra di loro. Il direttore della DCSA ricorda quale pericolo siano le nuove droghe, come la droga dello stupro, ma soprattutto ammonisce. Non tutti i paesi europei hanno leggi che ne tengono conto. È una droga che crea un particolare allarme anche per questa possibilità, diciamo, subdola di somministrazione. La disciplina normativa non è armonizzata, nel senso che in Italia è inserita in tabella, è comunque considerata una droga. In alcuni altri stati, diciamo, questo prodotto, diciamo, l'utilizzo di questo prodotto, l'utilizzo in debito di questo prodotto può essere perseguito se si dimostra che ha avuto poi un effetto negativo, diciamo, sulla salute pubblica. Ma non è così automatico.